Il comune di Napoli è pronto a fare la sua parte per la pace in Palestina e quanto annunciato nel corso di una conferenza stampa presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il comune insieme ad alcune associazioni alla comunità palestinese scende in campo con una rete di medici, infermieri e volontari per promuovere iniziative di cooperazione e solidarietà in favore della popolazione di Gaza al fine di portare aiuti umanitari alle famiglie coinvolte nella sanguinosa guerra in atto in quel territorio. Ma sentiamo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Ci siamo resi promotori insieme alla comunità palestinese ad alcune associazioni di questa organizzazione di una rete di medici, infermieri e volontari per Gaza. Napoli ha risposto subito, i medici di tante aziende hanno risposto, adesso da oggi cerchiamo di mettere in campo azioni concrete per portare aiuti umanitari a Gaza dove è in atto un vero e proprio genocidio. Chiediamo aiuto all'Italia e al sindaco di Napoli per il cessate il fuoco, ha spiegato Suzanne Fatayer della comunità palestinese di Napoli, basta con le parole, ora bisogna intervenire con i fatti e a rischio la vita di molti bambini che non hanno più scuole né ospedali. Ormai non c'è acqua, votabile, non c'è elettricità, tutta l'infrastruttura ormai rasa al suolo, la popolazione non ha da mangiare neanche il pane, adesso scarseggia anche la farina, non hanno nulla. Ci sono corbi sotto le macerie, ma sono parecchi i corbi, non soltanto ci sono quartieri che sono stati rasati al suolo come il quartiere di Chagiaia. Qui c'è un popolo che sta morendo, o intervengono nell'immediato o meglio che rimangono nelle loro case, è inutile che parliamo di democrazia perché questa non è una democrazia.